Urlano e si rincorrono, poi si abbracciano e si riallontanano. Sabato notte, segnata dal Trambusto, in piazza D'Amico, in pieno centro a Lanciano, dove i residenti hanno assistito, impotenti agli schiamazzi. Un gruppo di alcuni uomini e due o tre donne, intorno alle due della notte, hanno gridato l'uno contro l'altro. Si sono anche sfintonati, più volte, urla che hanno attirato l'attenzione dei passanti e di quanti cercavano di riprendere l'auto in sosta, senza finire invischiati in quella che sembravano a discussione molto accesa. C'era chi si disperava perché non voleva tornare in carcere, dalle parole farfugliate che si possono comprendere nel video filmato da alcuni passanti, e c'era chi tentava di riportare la calma. Gli schiamazzi sono proseguiti per alcune ore, fino a quando il gruppo all'alba si è trasferito alla ex stazione ferroviaria. La notte successiva, tra domenica e lunedì, un'auto è andata a fuoco in via Corradino Marciani, probabile atto doloso al vaglio dei vigili del fuoco di Lanciano. Sul secondo episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia. Sugli schiamazzi di sabato notte, invece, non sembra siano giunte segnalazioni alle forze dell'ordine, mentre la città si interroga sulla sicurezza.